È importantissimo, perché se non ci formiamo il giorno d'oggi siamo fuori dai giochi completamente. Il mondo ormai è una centrifuga, un continuo cambiamento, pertanto dobbiamo stare sempre a passo con i tempi. In particolare oggi si parla di conti, di budget, anche in questo caso un occhio di riguardo verso questi aspetti può far fare il salto di qualità. Assolutamente sì, infatti il titolo della giornata di oggi è provocatorio, i conti tornano. Cioè oggi parliamo sostanzialmente del sistema di controllo di gestione e di come prendere in mano il volante della nostra impresa e cominciarla a governare. E non solo essere in balia della situazione dei mercati che cambiano continuamente. Quanto è frequente trovare operatori del mondo del turismo che fanno formazione così in maniera costante? Purtroppo non è frequente, ci manca la cultura della formazione, questo assolutamente sì a livello nazionale, a prescindere da una regione e l'altra. Ribadisco, abbiamo assolutamente bisogno di formarsi molto di più di quanto non lo facciamo ora. Grazie.